Gol e tre punti, grande chiusura del girone d'andata per questa Fidelisandria. Abbiamo fatto una grande partita e sono stati tre punti fondamentali, calcolando che ancora manca il recupero di Taranto. Speriamo di chiuderlo veramente nel migliore dei modi questo giorno d'andata. Due mesi e mezzo dal tuo arrivo ad Andria, qual è il bilancio? Ma è stato sicuramente un momento particolare cambiare. Ho fatto la scelta insieme alla mia famiglia di venire ad Andria perché conoscevo la società e conoscevo il modo di lavorare dell'allenatore. Quindi per me è stato abbastanza semplice. Adesso sono due mesi e mezzo che dopo qualche difficoltà in avvio, anche dal punto di vista fisico, penso che le cose stanno andando nel verso giusto. La classifica è ancora troppo parziale, visti tanti rinvii. Anche la Fidelis deve recuperare una partita. Però c'è soddisfazione, immagino, per aver chiuso il girone d'andata a 28 punti. Sì, come ti dicevo prima, parzialmente 28. Speriamo di farli diventare di più. Però siamo soddisfatti del lavoro quotidiano che facciamo durante la settimana e poi i risultati si vedono nelle prestazioni della domenica. Il recupero di Taranto dovrebbe essere fissato al 3 marzo, quindi la Fidelis potrebbe scendere in campo 5 volte fino al 7 marzo. Tutti contro avversari di ottimo livello. Quanto sarà importante ragionare partita per partita? Fondamentale ragionare partita per partita e quindi concentrarsi sul presente. Guardare troppo oltre ti può portare fuori strada. Sei già a 6 centri complessivi in questo campionato. Si può arrivare al numero che hai sulla maglia, il 10? Ma anche in questo caso si lavora un gradino, poi un altro. Mi piace dire mattoncino. I mattoncini sono i punti che ci portano a raggiungere gli obiettivi. E poi vediamo a livello personale com'è andata. Ultima battuta sui tifosi. Anche domenica gli avete dedicato la vittoria festeggiando i piedi della curva. Quanto vi mancano e come si stanno facendo sentire anche attraverso i social? Mancano a noi, mancano al movimento calcio in generale. Perché il calciatore vive di emozioni, vive di sensazioni, vive di vibrazioni. E privarsi di questo è la cosa che fa più male. Noi ci mettiamo anche nei panni dei tifosi. Capiamo quanto è difficile stare a casa e non poter fare ciò che si ama.